Test gratuiti anti-Covid-19 In tutti i comuni della provincia di Nuoro, il 6 e 7 febbraio, dalle 8 e 30 alle 13 e dalle 14 alle 18, puoi fare gratuitamente il test antigenico. Il test è rapido, efficace e affidabile. E puoi farlo presso la sede più vicina individuata dal tuo comune, presentando la tessera sanitaria. Al numero di cellulare verrà inviata la password per avere il referto. Per combattere la diffusione del virus, aderisci alla campagna di screening della Regione Sardegna, Sardi e Sicuri. Per informazioni, consulta il sito del tuo comune o chiedi al tuo medico di fiducia.